Crion risponde, canalizzato da Lee Carroll, sulle malattie, 15 febbraio 2002. Caro Crion, ho un figlio a cui è stato appena diagnosticato il diabete. Voglio onorare la decisione del suo spirito di avere questa malattia in questa vita, ma allo stesso tempo io voglio disperatamente che stia bene. Ha solo 4 anni e l'idea che debba fare iniezioni per il resto della sua vita ed essere controllato per la sua malattia, per me è difficile. Se non si cura adeguatamente, potrebbe causare cecità, insufficienza ipatica, malattie cardiache ed anche l'amputazione. Io lo voglio disperatamente sano e guarito, ma mi sento incredibilmente impotente. La mia domanda è, come posso avvicinarmi al mio bambino con questa malattia? Devo limitarmi ad accettarla o tentare di aiutarlo a guarire se stesso? Mi sono proprio perso dietro questo tipo di ragionamento e quale scopo ha nella sua vita questa malattia. Grazie per il tuo tempo, Brian. In un certo modo hai già risposto alla tua domanda. Comprendi pienamente il principio che segue. Il bambino ha stabilito di portare questo nelle vostre vite collettive. Sai anche di essere impotente a cambiare la sua biologia, che egli solo può cambiare ciò che ha deciso di portare nella sua vita. Ma come genitore amorevole faresti qualsiasi cosa per aiutarlo. Sei quindi frustrato per la sensazione che devi stare a guardare ed inerme. Mio caro, nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. Ricorda che la decisione spirituale di tuo figlio permette che questa malattia nella sua vita sia per entrambi voi. Dunque, comincia a cambiarla. Primo, devi rilassarti con ciò che è. Già comprendi i principi della questione, allora riconoscilo. Inviagli luce ogni giorno. Vivi in modo tale da mostrare a questo bambino che gli umani possono cambiare se stessi. Sii un saggio esempio per lui e vivi nella gioia. Parlagli spesso di come l'essere umano è capace di cambiare la propria biologia, e che un giorno lo potrà fare se lo vorrà. Instillagli i semi del rafforzamento, le parole sagge di un genitore che lo onora e lo ama immensamente. Non mostrargli paura o dispiacere o altro che non sia incoraggiamento. Allora, caro Brian, quando meno te lo aspetti, e forse anche quando te ne sarai andato, questo bambino ricorderà la gioia di suo padre e le tue sagge parole. Forse si guarderà intorno e porrà la domanda divina. Posso davvero cambiare il mio DNA? Questo inizierà il processo di guarigione che potrà ed eliminerà lo squilibrio biologico dalla sua struttura cellulare. Ci sono precedenti di questo. È possibile e molti lo stanno facendo. Con il prenderti cura di te stesso e della tua consapevolezza, gli avrai mostrato una luce che egli può sforzarsi di ottenere più avanti. Questo è il miracolo di una vita illuminata. La luce che mostri oggi non se ne va mai via. È contenuta in un eterno magazzino, ed è disponibile per i tuoi bambini per tutta la loro vita. Comincia ad immagazzinare la luce. Caro Crion, mi stavo chiedendo cosa avresti da dire su malattie e sindromi come la narcolessi o la fibromialgia. Diresti che questi tipi di malattia facciano parte del nuovo umano, essendo il cervello dei narcolettici mancante delle sostanze chimiche che ci tengono ancorati al pianeta, o hanno piuttosto a che fare con contratti barra problematiche risalenti a vite passate, eccetera? Grazie, Stefani. Hai appena citato due caratteristiche della biologia umana che appartengono al setup personale di nascita. Fanno anche parte di quel grande numero di programmi che possono essere facilmente modificati nella nuova energia. Così, no, non fanno parte per nulla del nuovo umano, ma piuttosto sono un reperto di quello vecchio. Potete liberarvi di entrambi. Crion. 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 Grazie a tutti.